Il dato mi sembra chiaro, il 14% che abbiamo raccolto lo abbiamo raccolto principalmente da un elettorato grillino, a mio modo di vedere, visto il risultato di pugni, da un elettorato di centrosinistra e da un elettorato di indecisi. Quindi questo è il patrimonio principalmente elettorale delle nostre liste. Sul fatto dell'astensionismo credo che questo sia un dato molto preoccupante che deve fare riflettere e che è un trend negativo a scendere da 15 anni a questa parte. Le liste civiche hanno un risultato importante anche nella nostra alleanza. Il risultato di massimo è comunque significativo perché un 13-14% con poco tempo di preparazione, come è stata la nostra lista giovani, la nostra lista civica, sono dati su cui riflettere. Perché è la fatica dei partiti, c'è poco da fare, che si lega anche all'astensionismo, alla bassa affluenza, alla sfiducia. Chiaro, avevamo sette candidati, poi è difficile emergere noi in questo, però il risultato di massimo secondo me è importante.